Questa è una notizia che ho sentito, ho scoperto che il comune di Treviso, magari chi è di Treviso me lo potrà confermare se è così, il comune di Treviso ho scoperto che utilizza i bidoni per la raccolta differenziata che sono bidoni prodotti dalla raccolta differenziata, cioè con materiale riciclato. Quindi questa è una bella notizia perché anche vedi l'utilizzo di quella raccolta differenziata che non è sempre facile, non so se nelle vostre città il vostro comune già la fa, però noi che l'abbiamo per esempio nel comune di Forlì abbiamo iniziato a farla da gennaio, è bella impegnativa. Quindi quando vedi poi anche i risultati, cioè che quei materiali raccolti, differenziati, poi il materiale riciclato viene utilizzato, anzi a maggior ragione viene anche utilizzato per produrre energia elettrica. Quindi il comune di Treviso, da quello che ho sentito, confermatevi se sia qualcuno di Treviso, praticamente riesce a utilizzare l'immondizia per pagare l'energia elettrica del comune e in più anche utilizzare dei bidoni anziché comprarli di plastica, utilizza la plastica riciclata per farli. Quindi magari se avete qualche aggancio nel vostro comune, provate a dare questo esempio del comune virtuoso del comune di Treviso che chissà che... ecco, vedi, c'è qualcuno che dice Fabrizia, dice io lo sono confermo. Ah, grandissimo, quindi è una notizia vera, non è una fake news. Sì, è impegnativa anche qui a Torino, ok. Quindi insomma, è bello se vedi il risultato della fatica, al di là del fatto che comunque quello che facciamo della raccolta differenziata serve per il nostro ambiente, perché una volta mi piange il cuore quando io per esempio che vivo a Pinarella, non vivo più a Forlì, però nel comune dove vivo io i bidoni per esempio dell'organico, dentro vedo delle buste di plastica, sai quei sacchetti neri, quelli che si sa, cioè che anche un idiota sa che quelli sono per l'immondizia indifferenziata. E quindi vedo i sacchetti, ogni giorno vedo il sacchetto, quello di plastica dura, spessa, dentro il bidone dell'organico, dove invece là dentro vanno quei sacchetti che sono biodegradabili. Quindi alla fine ci sono persone che se ne strafregano e per colpa anche loro, poiché si è arrivato a questo fatto della raccolta differenziata, perché così almeno si è un po' più sicuri di dividerlo. Sta di fatto che prima notizia buona di oggi è che il comune di Treviso utilizza l'immondizia differenziata in modo virtuoso, facendoci anche risparmiare, facendo risparmiare gli abitanti di Treviso anche sulla bolletta della luce del comune, non ovviamente di ogni singolo abitante penso. Comunque, seconda buona notizia, ero in treno che stavo venendo qui a Genova e nell'ascensore alla stazione di Bologna incontro una ragazza insieme a sua mamma, che probabilmente era sua mamma, anziana, una signora carinissima che però andava lentissima, quindi anche le persone che stavano dietro magari con la valigia per salire sull'ascensore andava lentissima e questa ragazza mi ha stupito perché aveva una pazienza enorme, quindi di solito si vede i giovani che con le persone anziane hanno poca pazienza, sono nervosi, dice dai sbrigati, magari trattano anche male, oppure si vergognano del fatto che sono insieme una persona così lenta. La cosa che mi ha stupito, la cosa bella, la bella notizia è appunto vedere questa ragazza che invece aveva una pazienza, andava piano insieme a sua mamma, sua nonna, insomma insieme a questa persona anziana, quindi camminava piano e non so se ne avete mai visto queste scene, comunque una bella scena. Seconda bella notizia, terza bella notizia, si parla spesso, sento anche dei colleghi insomma che parlano di significato da trovare nelle difficoltà, nei problemi, anche per gestire lo stress, però non è facile, quindi quando tu dici a una persona che magari non ha mai seguito un corso di formazione, che magari non ha mai letto un libro di crescita personale o magari, non lo so, magari non ci pensa in quel momento, perché non ci ha mai riflettuto, non ha mai avuto occasione di fermarsi un attimo a riflettere, è difficile trovare il significato in effetti, dietro magari anche i lavori più umili. Allora c'era un commento di una persona giorni fa che diceva, come faccio a trovare il significato in quello che faccio quando pulisci tutti i giorni, i bagni, magari sì avrà un significato positivo per la persona nella casa a cui pulisci, però che significato positivo puoi trovare in questo. E allora, la buona notizia dov'è? Che ho risposto a questa persona cercando di farla riflettere con delle domande, quindi ad esempio se tu fai un lavoro umile, che può essere un lavoro semplice, umile, che può essere quello di fare le pulizie, alla luce del fatto che comunque c'è sempre più inquinamento, ci sono sempre più batteri e virus difficilmente debellabili, una persona che fa le pulizie in casa, secondo voi, secondo te, quindi quello che ho chiesto a quella signora, secondo te è una persona che fa semplicemente passa lo straccio oppure contribuisce alla salute della persona che abita in quella casa? Cioè vista in questo modo, cioè con una percezione più allargata, in effetti chi fa le pulizie, contribuisce alla salute, alla salute delle persone, quindi così come contribuisce un medico, così come contribuisce un'infermiera, un'infermiera, anche una persona che fa le pulizie contribuisce alla salute, quindi è un operatore della salute. Allora, vista in questo senso, con una prospettiva più ampia, ti fa cambiare completamente anche la tua reazione rispetto alle difficoltà, rispetto alla pesantezza di un lavoro che effettivamente non è leggerissimo. Quindi questa persona poi è come se avesse avuto un'illuminazione, comunque mi ha ringraziato e perché vista in quel modo sicuramente sembrava meglio. Cioè la realtà è sempre quella che è, siamo noi a poter avere questo grande dono di dare e attribuire un significato. Quindi cosa è successo? Nel momento in cui con una domanda gli ho fatto vedere le due prospettive da poter scegliere, e questo vuol dire usare l'intelligenza in positivo, vuol dire usare la nostra intelligenza per focalizzarsi sulle cose che sono più utili per noi, che ci fanno stare meglio. Non vuol dire non vedere gli aspetti negativi, ma se tu ti focalizzi solo sugli aspetti negativi, allora è ancora più difficile, perché effettivamente, ditemi voi se non siete d'accordo, quanto è difficile pensare al proprio lavoro pensando che sia una cosa meccanica di pulire e basta, e che i benefici ce li hanno solo gli altri. Mentre com'è diversa, com'è la tua prospettiva, come ti senti, come lavori, come affronti le difficoltà nell'idea, focalizzandoti sul fatto che quello stesso lavoro contribuisce a far star bene in salute un'altra persona, è tutto un altro mondo, è sempre la stessa cosa, è sempre la stessa azione, è sempre lo stesso lavoro, ma sta a noi focalizzarci sull'uno o sull'altro. Quella modalità di fare domande è una modalità che cambia la percezione, perché è una modalità che arrivi direttamente al paleoencefalo e quindi arrivando direttamente al paleoencefalo cambi la percezione, cioè gli dai l'input per avere una, si dice in psicologia, esperienza emozionale correttiva, che è quello che noi faremo al corso di intelligenza positiva, perché tante cose sulla gestione dello stress, della comunicazione, della salute, magari le sappiamo, magari sei una persona che hai letto libri, hai già frequentato dei corsi, segui dei video, ti informi, cerchi di fare qualcosa per la tua salute, però magari non ci riesci, magari di fronte a quella persona non riesci a cambiare la tua reazione, magari non riesci a usare la parola giusta e poi ti penti, avrei potuto dirgli così, quindi tante volte nei corsi di formazione, anche io ne ho seguiti, ti dicono cose sacrosante, giuste, che tu dici cavoli, illuminante, interessante, ma poi non riesci ad applicarle, quindi la differenza di quello che ho studiato anche o approfondito rispetto alle altre edizioni del corso è quello proprio di cambiare, di prima cambiare la percezione, quindi avere un'esperienza emozionale correttiva che ti fa ampliare la percezione e ti dà la possibilità di scegliere qual è la realtà più utile per te, qual è la prospettiva più utile. Nel momento in cui hai un'esperienza emozionale correttiva, cioè hai un cambio della percezione, allora riesci anche ad approcciare, utilizzare degli strumenti nuovi e diversi, quindi quello che magari ti può sembrare giusto, logico, interessante e utile lo riesci a utilizzare in modo concreto quando cambi la tua percezione. Quindi vedremo proprio degli strumenti con degli esercizi pratici come cambiare la percezione e poi come immediatamente abbinare una strategia nuova più utile, uno schema comportamentale più utile, uno strumento nuovo e più efficace. Perché? Perché tante volte noi abbiamo esperienze emozionali correttive, abbiamo delle illuminazioni. Vi è mai capitato di avere un'intuizione? Cioè magari su quel problema l'hai sempre visto in un modo, all'improvviso, non so se vi è mai capitato, ditemi se vi è capitato perché questa cosa è fondamentale per riuscire a cambiare la direzione della nostra vita. Quindi ti viene questa intuizione, dici cavoli potrei fare così, oppure cavolo è il momento di cambiare, in quel momento decidi, che ne so, di smettere di fumare. Le persone pensano che cambiare, ad esempio prendere una decisione, richieda tanto tempo. In verità è lungo il processo che porta al cambiamento, ma il cambiamento avviene in un istante. Se tu decidi di smettere di fumare, in quel momento hai smesso. Non vuol dire aver smesso di fumare se tu oggi ne fumi una in meno, oggi fumi un pacchetto in meno, oggi ne fumi una, domani non ne fumi nessuna. Cioè smettere di fumare è quando non fumi più e quindi quella decisione la prendi in un istante. Quando è che la prendi? Quando hai un'esperienza emozionale correttiva, cioè hai una percezione di quello che fai, di quello che vuoi fare, di quello che avresti fatto, diversa. E quindi avendo una percezione diversa, allora riesci anche ad ascoltare la ragione e quindi a mettere in atto un nuovo comportamento. Allora noi spesso abbiamo delle esperienze emozionali correttive, spesso abbiamo dei cambiamenti che però possono essere, possono avvenire in due modi, o in modo casuale oppure in modo programmato, in modo magari preciso, magari guidato. Perché? Perché se tu stai a aspettare che avvenga quel cambiamento, cavoli, la vita, cioè oggi ci sei, domani magari non ci sei ancora, magari domani c'è un altro problema e quindi rimandi ancora a quel cambiamento. Non so, mi è mai capitato di rimandare, rimandare quella cosa che sai che dovresti fare, che sai che ti farebbe bene? Caspita, cioè non vale la pena vivere una vita aspettando un cambiamento, un cambiamento anche del nostro comportamento o della situazione esterna ancora di più. Cioè sprecchiamo vita quando ci sono gli strumenti, quando ci sono le metodologie, quando ci sono gli approcci che ti permettono di accelerare i tempi di quel cambiamento di percezione e quindi anche di quel cambiamento logico che tanto aspetta. Quindi ci sono o modi casuali, aspetti per caso, e modi invece un po' più guidati, un po' più precisi, un po' più celeri. Il problema di aspettare, dici io prendo la vita così come viene, se è il destino che devo cambiare, se è il destino che devo smettere di fumare, se è il destino che devo imparare un modo nuovo di comunicare, se è il destino che devo smettere di arrabbiarmi, allora accadrà così. In verità, sai qual è il problema? Che quando è casuale, questa è una cosa che mi ha cambiato la vita avere questo approccio, quando è casuale, qual è il problema? Che l'esperienza emozionale correttiva, cioè ti fa cambiare la percezione, ma non è detto che tu la sostituisci con una più positiva, perché può succedere che tu è vero che cambi percezione, ma siccome non trovi nulla di alternativo, ditemi voi se non conoscete una persona che ha smesso di fumare e dopo poco o si butta sul cibo o ricominci a fumare. Perché? Perché quel cambiamento di percezione è stato così casuale che non ha portato poi a una sostituzione più efficace e che ti dia altrettanto soddisfazione. Quindi non trovando niente di efficace e di alternativo, ritorni sulla vecchia strada. Questo è il rischio di affidarsi a un cambiamento di percezione, un'intuizione che sia casuale. È vero che abbiamo le intuizioni, ma perché aspettare che arrivino? Perché aspettare di decidere di cambiare in modo casuale che poi magari quella decisione che prendi dopo il cambio di percezione è una decisione che non ti porta a nulla di buono. Quindi la cosa efficace è riuscire a guidare il cambio di percezione e guidare anche il tipo di approccio diverso che vuoi utilizzare. Non so se sono stato chiaro. Ecco, io non riesco a svoltare, attenzione, io non riesco a svoltare Cinzia. Ah, ciao Cinzia. Quanto tempo non ci si senti? Io non riesco a svoltare. Eh, dipende, dipende Cinzia, da cosa intendi per svoltare. Perché questo lo vediamo anche al corso di intelligenza positiva. E chi non ha mai sentito parlare vai su www.intelligenzapositiva.com e così vedi in cosa consiste questo corso. Però quello che dice Cinzia è una cosa che succede spesso. Io non riesco a svoltare. Perché il nostro cervello non ha chiaro cosa intendi per svoltare. Cioè se una cosa è un po' vaga, io voglio cambiare vita, voglio cambiare modo di reagire, voglio cambiare amicizie, voglio cambiare relazioni, voglio cambiare lavoro, ma non hai la strada precisa, alternativa, la direzione precisa, per il cervello è una fonte di stress. E quindi comincerai ad avere degli autosabotaggi. Non so se qualcuno di voi ha mai vissuto dei momenti di autosabotaggio. Gli autosabotaggi provocano proprio questo, cioè sai che dovresti fare quella cosa, ma poi alla fine fai di tutto o trovi di tutto per non farlo. Perché? Perché il tuo cervello non ha ben chiara la direzione. Quindi siccome il cervello ti deve tutelare da fatica, dolore e insicurezza, cosa farà? Cercherà in tutti i modi di allontanarti da quella meta perché è troppo vaga. Quindi occorre, ed è questo quello che facciamo appunto al corso, cercare di identificare bene l'obiettivo. Ci sono degli elementi che ti fanno capire bene l'obiettivo e delle domande che arrivano direttamente al cervello antico, quello rettile, e ti fanno capire, ti fanno percepire quell'obiettivo in un modo che sia più accattivante, che sia per te più stimolante. E quindi nel momento in cui cambi la percezione rispetto all'obiettivo, cioè per il tuo cervello, attenzione, non è più un pericolo, non è più qualcosa di vago, non è più qualcosa di faticoso, ma è qualcosa di motivante che potrebbe darti addirittura piacere e soddisfazione, allora il tuo cervello ti aiuterà a raggiungere quell'obiettivo. Io a volte mi sono scritto, ne parlavo proprio stamattina con il mio amico Salvo Ambrosi, che ultimamente ho avuto delle difficoltà perché non ho fatto in tempo a pianificare alcuni step, alcune mete, alcuni obiettivi, e quindi mi sono trovato a dover rincorrere e a dover ogni giorno essere sul reattivo, cioè arriva una richiesta, arriva un problema, arriva qualcosa da risolvere e io magari avevo in mente vagamente di fare altro, ma quell'altro non lo faccio perché sono sul problema del giorno. E quindi questa roba qua mette stress, mi mette ancora più stress. Poi è vero che io uso altre tecniche, ad esempio fra queste l'esercizio fisico, e che mi abbassa un po' lo stress, ma comunque l'ultimo periodo, non avendo programmato alcune cose, trovandomi nella reattività rispetto all'evento del giorno, al problema del giorno, alla richiesta del giorno, questa cosa mi mette ancora più difficoltà. E magari la meta che ho, siccome non l'ho scritta, siccome non l'ho pianificata, siccome non l'ho divisa in step intermedi, quella meta lì per assurdo trovo sempre scuse per non raggiungerla. Quindi, vabbè, chiudo la diretta perché dovevo essere breve solo con le tre notizie, intanto le tre notizie spero che le abbiate sentite, e se vuoi approfondire questi temi, c'è sempre il corso di intelligenza positiva con ancora la promozione per portare sia i ragazzi sotto i vent'anni gratis, sia per potersi far pagare dall'azienda con un piano di welfare questo corso, sia per partecipare in due persone, quindi condividere con un'altra persona questa esperienza, e poi dopo a fine aprile, quindi dal 30 aprile in poi, i prezzi saliranno perché questo corso comunque so che è un investimento per una persona, però è stato un investimento anche per me di tempo e di anni, di tempo e di denaro per imparare queste cose, ma l'investimento quando è che è un investimento? Quando tu quelle cose che senti, che provi, sperimenti e che poi diventano tue competenze, sono per sempre, ecco perché è un investimento, perché se anche impari a comunicare in modo diverso, a entrare in empatia in modo diverso con le altre persone, oppure magari a utilizzare le tue qualità di sensibilità, di bontà, di generosità, di umiltà, proprio per riuscire a superare quegli ostacoli che fino adesso ti hanno fermato, quella è una cosa che è tua per sempre, cioè una volta che hai acquisito quelle competenze, come gestire lo stress, quello che ho imparato io per entrare nello stato psicofisico giusto, se per esempio, mi dicevo una brutta notizia, ma devo andare a lavorare e devo cambiare il mio stato perché a lavorare è necessario che sia in uno stato positivo e non negativo, questa cosa qua, una volta che l'ho imparata, mi è costata, cioè mi è costata, ho pagato dei soldi per seguire quel corso presso cui l'ho imparato, ma me lo porto per sempre dietro, cioè io lo uso sempre e quindi è una cosa che diventa tua e fra l'altro è una cosa talmente potente che è un esempio anche per gli altri, perché se tu sai gestire meglio di altri quello per cui gli altri si lamentano, quello per cui gli altri si fermano, cavoli diventi un esempio e quella cosa, quell'investimento che hai fatto per aver imparato quella tecnica vale il triplo perché vale per te, vale per chi conta per te e vale anche per chi non conosci e chi non ti conosce che ti vede e vede in te un esempio, magari proprio per gestire lo stress, magari tu hai imparato queste tecniche per gestire lo stress, per gestire i tuoi pensieri e sei un esempio di positività per gli altri, quanto sarebbe bello questa cosa? E quindi ecco perché è un investimento, la formazione, quello che impari, quello che leggi nei libri, quello che leggi e ascolti da un video, è un investimento perché una volta che l'hai ascoltato e una volta che l'hai applicato, perché poi se l'ascolti e basta, una signora una volta mi ha scritto, ma perché non possono bastare i video da due minuti dove sei muto? Se tu da un video di due minuti dove sono muto riesci ad acquisire una competenza, cioè saper fare e applicarla e cambiare risultati, ben venga, ma io non conosco nessuno che da un video di due minuti o leggendo un post di una citazione di uno storico sia riuscito a cambiare la sua vita, magari può essere un input, ma poi devi applicare perché le citazioni non servono a nulla se poi non applichi, non so se siete d'accordo su questo. Quindi insomma ci vediamo domani con le notizie positive, scrivetele qui sotto le vostre e poi metto anche il link del corso di intelligenza positiva, ci vediamo domani con le prossime tre notizie positive di questo TG positivo. Saluti ridenti, buona cena!